La situazione è molto brutta e dovremmo aspettare la notizia per il ritorno del calcio e credo che io e tutti i ragazzi dovremmo pensare nel ritorno per noi e aspettiamo il ritorno e spero che la situazione descendra all'inizio e vedremo Si, veramente difficile e lontano dalla famiglia noi vogliamo rimanere qua per allenare per esempio noi siamo 4, 2, 3 giorni alla settimana alleniamo insieme ma per stare bene per il ritorno e come dice il mio compagno se torniamo dobbiamo essere pronti per fare una buona stagione e dal 25 ottobre siamo fermi quindi si, stiamo aspettando a vedere come finisce tutta la situazione ma si, veramente qua abbiamo trovato abbiamo fatto una bella squadra tra noi tutti i compagni, tutte le staff, i dirigenti, tutti e veramente siamo molti felici e vogliamo vedere come finisce tutto per rimanere qua Vi state allenando un po' individualmente oppure per il momento siete proprio fermi? Abbiamo iniziato in questi giorni a iniziare l'allenamento individuale perché era zona rossa fino a qualche giorno fa quindi piano piano stiamo riuscendo a sistemare di nuovo e a prenderla di nuovo l'allenamento e l'allenamento